Ciao a tutti, sono Martina della Samu Marviaggi e adesso vi farò vedere come si prenotano delle attività dal monitor touchscreen MSC4E. Come vedete si possono prenotare varie attività come spettacoli teatrali, ristoranti tematici, escursioni, ristoranti tematici e pacchetti bevande e pacchetti benessere. Si può vedere inoltre il daily program, avere informazioni sul turno della scena, sullo sbarco e altre informazioni utili. Adesso vi farò vedere come si prenota un pacchetto alla spa. Basta cliccare su MSC alla spa e si possono visualizzare tutti i trattamenti, tutte le categorie. Come vedete ce ne sono moltissime. Io scelgo un massaggio. Scelgo il primo per esempio. Visualizzo il prezzo e se sono d'accordo clicco su Acquista. A questo punto basta passare il proprio braccialetto o la cruise card vicino al dispositivo di lettura. Dopodiché il monitor ci darà conferma dell'avvenuta prenotazione. Grazie a tutti.